il tifosi del porto sono caldi e io non avevo la conoscenza dell'italia con il calcio quindi magari pensavo va bene va d'italia e sarà più tranquillo invece no qua è ancora di più di quello di caravoro numero 12 alex quando è venuto diciamo la proposta della juve è venuto un brivido tipo un sogno di poter giocare in una delle più grandi squadre al mondo here's a great run from alexandro he has a shot alexandro gives juventus the lead alexandro has made 324 appearances for juventus the only foreign player with more and just three more is pavel nedved the brazilians won 11 trophies in his nine seasons with the bianconeri la sede del trofeo sicuramente è il primo no perché dove inizia tutto è che ti fa pensare nella traiettoria che ti fa arrivare fino lì però dicendo oggi io parlo sempre con i ragazzi che le cose più importante non sono i trofei per dopo per la vita anche c'è tutte quelle persone che ho lavorato che ho conosciuto un giorno che me ne vado qua non saranno soli trofei che lascerò saranno anche gli amici compagni allenatori magazzini i fisioterapisti dottori tutti quindi secondo me il trofeo più bello che nella juve è tutto questo alexandro played a pivotal role in five consecutive scudettos four coppa italiana's and two supercups he can play in any position in the back line but can also get forward set up and score goals time for greatness maybe beh sempre con il primo gol con la madre della juve è sempre più speciale più pesante fatto un gol danielis ha fatto un cross raso terra ho controllato dentro l'area io ho girato facendo un gol che dicevo che sembrava l'imperatore l'adriano scherzavo con il compagno much has changed since alexandro joined juve but since 2022 he's been under the same coach as when he started in 2015 massimiliano allegri lui è una figura importantissima nella mia carriera dico non solo come calciatore però anche come persona perché ho imparato tantissimo con lui dentro fuori campo la scosta balla dentro il gol assegnato alexandro è una persona che sempre vuole il massimo non solo del calciatore delle persone perché io intanto lui dice guarda di sbagliare per me è normale va bene però voglio vedere quelle persone che che vogliono fare che sbagliano volendo fare le cose perché lui rispetta quello il valore delle persone prima del valore come calciatore che qui è una cosa che ha di nero tanto su di lui di queste cose suon in well good leap off the post and there is gatti having ended a four game winless run juventus face torino next the derby is always a highlight for alexandro who's netted twice against their city rivals but will this be his final game against the granata io con la mia famiglia a casa sappiamo che prima o poi arriverà il momento dell'addio possiamo arrivederci non si sa sono tante storie sono tanti momenti è difficile immaginare la mia vita senza la juve alexandro aveva tanto cercato il gol e alla fine lo ha trovato e sempre che parlerò della juve secondo me gli occhi magari sarà sempre brillante perché veramente sono stati sono stato benissimo e avrò la juve sempre nel mio cuore benissimo benissimo alexandri